Il 1988 fu dichiarato anno degli oceani per un fatto veramente convenzionale. Qualcosa bisognava celebrare. Avrebbe potuto chiamarsi anche un anno dei boschi e questi avrebbero continuato a bruciare, a scomparire dalla faccia della terra davanti alla totale indifferenza in curia dei governi che hanno sottoscritto accordi di protezione e sviluppo forestale. Avrebbe potuto chiamarsi anche anno dell'atmosfera e i paesi industrializzati non avrebbero sospeso le emissioni che danneggiano lo strato d'ozono e sono responsabili del suo riscaldamento della crosta terrestre. Tutte queste realtà, tutte queste assurde e dolorose realtà possono condurre facilmente al pessimismo, ma per fortuna la certezza che esistono persone e organizzazioni che consacrano i loro sforzi alla salvaguardia dell'ambiente ed esortano l'esercizio di un diritto elementare, quello di decidere collettivamente la sorte del nostro piccolo pianeta, ci lascia qualche speranza in mezzo a tanta cieca avidità. Ricordo una sera sul mare, nel nord della Sardegna. Assieme a un gruppo di amici, contremplavo il tramonto, il sole che ci lasciava per illuminare altre terre più a ovest, quando all'improvviso, dal largo, ci giunse l'inconfondibile canto delle balene, quel suono acuto che sembra una musica del futuro e turba a chiunque lo senta. Ho visto e ascoltato le balene in Groenlandia, nel golfo di California, nella penisola di Valdez, e là dove si abbracciano i due grandi oceani a Capo Horn, ma questa era la prima volta che le sentivo nel Mediterraneo. Subito dopo ne avvistammo alcune. Emersero con i maestosi movimenti che caratterizzano i grandi cetacei. Prima le teste bombate, poi i dorsi curvi sull'acqua, infine le code, che frustavano le onde o si inabissavano come enormi farfalle scure. Erano lì da tempo immemorabile, molto prima che i romani battezzassero Costa Balena, le rive di Golfo o di Genova, o Portus Delfini, quello che secoli dopo avremmo chiamato Portofino. Erano lì, nel Mediterraneo. E alimentavano fantasie ed estavano ammirazione, ricordando i limiti dell'esistenza umana e ispirando leggende come quella del Leviatano, o semplicemente dicendo che nella vita c'è posto per tutti. Quando vidi quelle balene al largo della costa settentrionale della Sardegna, non potei evitare un brivido di paura, pensando in quale mare si trovavano. In tutta la storia dell'umanità, nessun mare è stato mai maltrattato come il Mediterraneo, saccheggiato fino all'estensione di numerose specie, umiliato con ogni possibile forma di pesca illegale e solcato da apprendisti marinai di ogni genere che nel mare vedono solamente un passatempo, un ozioso svago che potrebbero benissimo trovare a Las Vegas o a Disney World. Ovviamente non è mai stato fatto un censimento delle moto d'acqua e delle imbarcazioni di porto, veloci a livelli criminali, che solcano ogni giorno le acque del Mediterraneo. Ma esistono rapporti, anche se scarni, che descrivono i loro incontri con delfini che finiscono tagliati a pezzi dalle eliche e testimonianze di centinaia di pescatori che, a bordo delle loro navi lente, hanno dovuto assistere in potenti giochi e giochi che alcuni cratini pieni di soldi si permetterano con i cetaci che passano davanti alla loro imbarcazione da riporto. Ci sono due frutti dell'ingegno umano che detesto oltremisura, la motosega e il motore fuoribordo. Milioni di eliche agitano le acque del Mediterraneo come se fosse un enorme frullatore in cui si prepara una pozione mortale. So che è molto difficile legiferare contro il mercato, specialmente contro il mercato dell'ozio irrazionale, e so che è ancora più arduo pretendere il rispetto internazionale di misure che limitino la velocità, l'inquinamento prodotto e le zone aperte alla navigazione degli pseudomarinai estivi. Ma la creazione di una zona protetta, di un santuario che consente la riproduzione e lo sviluppo della vita animale, è un passo urgente, indispensabile, se vogliamo che grandi cetaci si salvino dall'estinzione nel Mediterraneo. Sono un gran pessimista quando si tratta di commuovere ricchioziosi. Ma per una questione di fede nella specie umana, voglio credere che in un futuro, non troppo lontano, qualche industriale o qualche banchiere, invece di regalare al figlio adolescente una moto d'acqua, lo inviterà nello stesso posto della Sardegna settentrionale, in cui ho visto le balene. E lì, assieme ai figli dei pescatori, quel ragazzo si godrà il meraviglioso spettacolo dei cetacei che si muovono in uno spazio naturale protetto, perché la vita è e sarà sempre il più degno e gradito dei regali. Siamo ancora in tempo a salvare le balene e i delfini nel Mediterraneo. Siamo ancora in tempo a restituire al mare delle culture, almeno un po' di quanto li abbiamo strappato.